grazie a voi il prossimo video che terrà davide corrio relativamente all'utilizzo di odou sh ciao a tutti ben ritrovati oggi vi parlo di odou sh per gli amici odou sh è una piattaforma di cloud hosting creata da odou per odou circa due anni fa ci ha messo un pochettino a diffondersi perché durante la sua fase beta alcuni utenti lamentavano problemi di lentezza poca stabilità ma oggi vi posso assicurare che la sua stabilità è notevole problemi di performance non se ne notano più e ormai sono tantissimi progetti odou enterprise o stati su questa piattaforma si odou enterprise odou sh al momento non è disponibile per odou community non sappiamo se lo sarà in futuro quindi se prevedete l'utilizzo di questa piattaforma ovviamente dovete tenere conto anche del costo delle licenze odou enterprise odou sh a sua volta è un servizio a pagamento sul sito odou.sh avete accesso a un configuratore prezzi tutto ciò che riguarda i costi di odou sh non fa parte di questo talk ma il mio modestissimo parere è che il suo costo per l'utente finale non sia così elevato soprattutto grazie al vantaggio in fatto di risparmio di tempo perché è una piattaforma che ci permette di risparmiare tantissimo per quanto riguarda l'installazione la configurazione ma soprattutto la manutenzione compresi gli aggiornamenti di versione ovviamente fornisce anche degli strumenti per sviluppatori che in alcuni frangenti possono aiutare anche risparmiare tempo lato sviluppo durante questo talk voglio creare con voi un progetto odou sh per vedere quali sono i passi e la facilità di utilizzo di questo strumento innanzitutto per poter accedere a odou sh dobbiamo possedere un account github sì perché odou sh utilizza github sia per le credenziali quindi per l'accesso alla piattaforma ma anche per altre funzionalità che adesso vedremo quindi cliccando su sign in dopo aver inserito le vostre credenziali github venite trasportati alla dashboard principale dove potete vedere l'elenco dei vostri progetti e delle vostre installazioni odou quello che vogliamo fare adesso noi è creare un nuovo progetto su questo form abbiamo la possibilità di selezionare l'organization github sotto la quale creare il repository dedicato al nuovo progetto in questo repository verranno inseriti tutti i moduli personalizzati eventuali sub modules adesso vedremo l'utilizzo dei sub modules i requirements librerie esterne python ad esempio e così via seleziono quindi la mia organization gli dico di creare ad esempio un nuovo repository privato posso anche creare un repository pubblico oppure utilizzare un repository esistente ad esempio se volete creare un progetto utilizzando moduli di terze parti già esistenti ti do un nome odou days 2020 posso selezionare la versione di odou da utilizzare ricordatevi che odou supporta fino a tre release precedenti quindi in questo momento dalla 14 alla 12 va benissimo la 14 e a questo punto dovete inserire il vostro subscription code ovvero il vostro codice di licenza odou enterprise dopo aver inserito il codice di licenza a questo punto possiamo selezionare la location principale dell'hosting in questo caso seleziono ovviamente europa tenete presente che i backup delle vostre istanze verranno comunque ridondati su altre ubicazioni oltre a quella utilizzata per l'hosting della piattaforma stessa procediamo quindi con un bel clic sul pulsante deploy in questo momento odou sta creando il repository su github riceverete conferma via email del fatto che sono state aggiunte delle chiavi sul vostro repository appena creato e una volta terminata questa operazione verrete portati alla schermata principale del progetto e in questo caso possiamo vedere che odou sta procedendo alla creazione del container sì perché odou sh si basa su container non utilizza docker o altri strumenti simili sono dei container linux quindi si basano su architetture non ben divulgate da odou probabilmente si tratta di qualche soluzione costruita in casa comunque ecco qui abbiamo terminato con la costruzione del container di sviluppo vedete che qui di fianco avete la possibilità di creare dei container di sviluppo di staging e di produzione il primo che viene creato automaticamente da odou è il container di sviluppo automaticamente viene creato un container che si chiama main adesso vediamo a cosa corrispondono questi questi nomi potete ovviamente creare n container forcando quello precedente ricordatevi questo termine forcando adesso vediamo perché creiamo ad esempio un dev cosa succede in questo caso odou sta creando un nuovo container sta facendo il build di questo container ma cosa sta succedendo dietro questo è importante andiamo a vedere su github che cosa sta succedendo eccoci su github odou sh ha creato sotto la nostra organization un repository odou days 2020 e dentro questo repository sta creando tanti branch quanti sono i nostri container su odou sh questo vuol dire che per ogni container noi avremo un repository su github su questo repository potremo lavorare tranquillamente e ad ogni commit sul nostro repository sul nostro branch andremo ad aggiornare odou sh andrà automaticamente ad aggiornare il container relativo qual è però la differenza tra queste suddivisioni di container che vediamo qua nella barra di sinistra bene allora la sezione development riguarda ambienti di sviluppo dedicati al testing delle vostre funzionalità ogni container quindi ogni installazione di odou sotto development conterrà dei database con i dati demo installati dati demo che ci servono appunto per poter eseguire gli unit test di odou sotto staging avremo i nostri ambienti di test che di solito sono dei cloni degli ambienti di produzione quindi diciamo che per iniziare la nostra avventura sul nostro progetto odou sh la prima cosa che vogliamo fare è creare un ambiente di produzione clicco quindi sul più di fianco a production gli dico di creare un nuovo container che chiamo produzione forcando uno degli ambienti di sviluppo assumiamo che abbiamo già iniziato a lavorare sullo sviluppo di nuove personalizzazioni sotto uno di questi branch e vogliamo creare un database vergine partendo da questo database di sviluppo a termine della costruzione del container quella che troviamo sotto il tab history è la storia di tutto quello che è successo sul nostro container sia azioni sul database che commit sul branch legato al container stesso la prima azione che naturalmente possiamo compiere è un clic su questo pulsante connect cliccando sul pulsante connect abbiamo la possibilità di accedere al database appena creato sul quale ovviamente non è installato ancora nulla appunto come anticipavo è un database vergine possiamo ovviamente installare delle applicazioni installiamo ad esempio sales al termine dell'operazione quello che possiamo fare è creare un ambiente di staging ricordatevi che gli ambienti di staging a differenza degli ambienti di sviluppo sono a pagamento il numero degli ambienti di staging è limitato dalla vostra sottoscrizione ad ush per creare un ambiente di staging esattamente come un ambiente di produzione clicchiamo sul più di fianco staging e creiamo un nuovo branch staging anche in questo caso possiamo selezionare uno degli ambienti di sviluppo disponibili e attendiamo la costruzione dell'ambiente esattamente come per l'ambiente di produzione cliccando su connect possiamo accedere al nostro nuovo ambiente di test possiamo notare l'ambiente di test di staging è effettivamente identico all'ambiente di produzione non solo per quanto riguarda i moduli installati o le configurazioni importate ma anche per quanto riguarda i dati soprattutto i dati questo ci sarà la possibilità di effettuare test o anche debug su un ambiente identico all'ambiente sul quale stanno operando i nostri utenti ovviamente l'ambiente di staging che appena creato non rimarrà identico all'ambiente di produzione a lungo quindi a un certo punto avremo la necessità di clonare nuovamente l'ambiente di produzione come fare senza dover ricreare tutto l'ambiente di staging da zero? abbiamo la possibilità utilizzando le funzionalità di backup di scaricare il dump dell'ambiente di produzione e ricaricarlo sull'ambiente di staging sotto il tab backup vediamo popolarsi man mano che eseguiamo noi dei backup oppure man mano che un 2sh esegue dei backup pianificati la storia di tutti i nostri dump cliccando su create backup dopo qualche minuto avremo la possibilità di scaricare un nuovo dump aggiornato al termine di operazione verremo notificati della presenza del nuovo file tramite un'iconcina qua in alto di fianco al nostro nome utente ecco che l'operazione sia conclusa cliccando sull'iconcina possiamo scaricare il nuovo backup cliccando sul pulsante download O2sh ci chiederà se vogliamo scaricare un ambiente di test oppure il dump di produzione esatto prestate attenzione che due backup di produzione vanno in conflitto per via del fatto che la chiave di licenza è la stessa quindi l'ultimo backup prenderà il sopravvento e quindi l'ambiente di produzione effettivo potrebbe venire disattivato da O2 quindi per i nostri fini utilizziamo gli ambienti di testing possiamo ovviamente scaricare o meno il file store in questo caso nell'ambiente vergine possiamo ovviamente scaricare il file store ma considerando che lo spazio disco su O2sh è a pagamento nel momento in cui abbiamo dei database abbastanza pesanti quindi conviene evitare di scaricare anche il file store clicchiamo quindi su start e aspettiamo la fine dell'operazione ecco che il backup è arrivato clicchiamo su download e a questo punto sull'ambiente di staging possiamo cliccare nuovamente sul tab backup e procedere all'importazione del database dopo aver cliccato su next possiamo selezionare il file da importare come ci consiglia O2sh in caso di file abbastanza pesanti possiamo utilizzare il protocollo SSH utilizzando ad esempio dei client come Filezilla possiamo collegarci via SSH via SFTP a questo punto al nostro server O2sh trasferire il file e poi lasciare che O2sh prelevi questo file per procedere all'importazione clicchiamo comunque su import e attendiamo la fine dell'operazione O2 sta a questo punto ricostruendo l'ambiente ricostruendo il container al termine della costruzione dell'ambiente importerà il nostro dump e al termine di quest'altra ultima operazione avremo un database di staging aggiornato ecco che il nostro database è stato importato e possiamo procedere al test del nostro database senza dare fastidio ai nostri utenti quali altre potenzialità ci offre O2sh? beh tantissime in questo momento ci troviamo su un ambiente di staging e quindi abbiamo alcune funzionalità abbastanza interessanti abilitate all'inizio vi ho detto che gli ambienti di test come questo hanno alcune funzionalità disabilitate come l'invio della posta elettronica ovviamente per evitare di durante i nostri test inviare messaggi indesiderati eventualmente ai nostri clienti uno dei tab disponibili sui elementi di staging è appunto mails in questo tab sotto questo tab mail compariranno tutti i messaggi di posta elettronica inviati da O2 senza che questi vengano effettivamente inviati al destinatario esiste un mail catcher disponibile per gli elementi di staging che intercetta tutte le mail in uscita e ci permetterà di leggere il messaggio destinatario immittente senza dover per forza disturbare i nostri utenti oltre al tab mail ci troviamo qui a destra un altro tab shell il tab shell ci permette di accedere effettivamente ad una shell sul sistema operativo quindi una shell bash sulla quale possiamo compiere parecchie operazioni utilizzando i comuni comandi Linux con ls possiamo ispezionare il file system così possiamo anche accennare alcune caratteristiche del file system di O2sh sotto la cartella backup.daily ci troviamo i backup del giorno una volta che vengono eseguiti da O2sh quindi potremo tramite un document come FileZilla appunto scaricare il backup del giorno senza passare dall'interfaccia di O2sh ci troviamo anche una cartella data nella quale abbiamo il file store soprattutto perché il backup all'interno di backup daily conterrà solo il dump del database la cartella log con i logs della sessione O2 una cartella mail dir dove saranno presenti i vari file di posta elettronica intercettati dal mail catcher una cartella repositories nella quale ci sono le informazioni riguardanti il repository agganciato a questa sessione a questa istanza di O2sh una cartella src dove troviamo il codice di O2 sia il codice di O2 enterprise che il codice di O2 base i temi O2 e una cartella user dove troveremo il contenuto del nostro repository github quindi man mano che inseriamo moduli personalizzati sul nostro repository github questi saranno disponibili sotto src user la shell O2sh è importante anche perché con questa possiamo accedere al database tramite il comando psql una nota riguardo O2sh per questione di sicurezza non è assolutamente possibile collegarsi a postgres tramite un client come pgadmin le porte verso pgadmin sono ovviamente chiuse quindi l'unico modo che abbiamo per accedere al database è utilizzare la shell di O2sh con il comando psql dal quale potremmo ovviamente lanciare tutte le nostre query uscendo dalla shell procediamo e arriviamo all'editor l'editor di O2sh è basato su Jupyter NOP quello che una volta era conosciuto come IPython NOP che cosa possiamo fare con questo editor? beh un pochettino di tutto possiamo accedere all'interprete python così come alla O2shell questo è abbastanza interessante perché potrebbe tornare comodo utilizzare la O2shell ad esempio per importare dei file da csv piuttosto che utilizzare chiaramente rpc remoti come ho già accennato non possiamo utilizzare strumenti come pgadmin per connessi a postgres quindi abbiamo necessità spesso di uno strumento veloce per fare operazioni batch o importazione file senza dover per forza passare da connessioni rpc la O2shell avendo diretto accesso all'API di O2 ci consente questo abbiamo a tutti gli effetti un editor di sviluppo possiamo effettivamente aprire file python, modificarli, fare debug quindi all'occorrenza potrebbe diventare anche il vostro ID di sviluppo sotto la cartella user avete accesso al vostro repository github e qui effettivamente potete creare cartelle file integrarvi con github quindi fare push e pull quindi perché no all'occorrenza potrebbe essere un sostituto di un Visual Studio Code piuttosto che PySharmon sempre considerando che nonostante ci sia syntax highlighting per python non abbiamo la possibilità di avere strumenti come ad esempio validazione pepotto dei nostri file python quindi un po' di limitazioni ci sono Abbandoniamo l'editor e torniamo a O2sh oltre all'editor abbiamo anche un tab logs dal quale esplorare i vari log di Odoo soprattutto log di sistema di Odoo un log live quindi vedremo scorrere le informazioni del log sullo schermo tab backup l'abbiamo già accennato sotto settings abbiamo un po' di informazioni importanti soprattutto per elementi di staging e produzione dal tab settings possiamo impostare soprattutto la revisione della versione di Odoo che vogliamo utilizzare quindi se stiamo utilizzando ad esempio in locale una revisione differente vogliamo avere una revisione identica tra vari ambienti possiamo selezionare la revisione ma soprattutto possiamo impostare dei domini custom tramite questa funzione custom domain possiamo impostare un nostro dominio Odoo ci chiederà di aggiungere sul nostro DNS un record CNAME con il quale potremo accedere al da singolo database staging o produzione con un dominio custom Odoo si occuperà oltretutto di generare anche un certificato SSL valido questa è una cosa abbastanza carina abbandonando la sezione branches e passando alla sezione builds notiamo che abbiamo accesso a tutti gli effetti a un'istanza Rambot Rambot lo conoscete tutti quanti è quello strumento che ci permette di testare tutte le pull request dei progetti sia Odoo che OCA con il quale possiamo anche testare live le istanze Odoo con il nostro Rambot possiamo ovviamente connetterci al singolo database ma possiamo anche per le istanze di staging e sviluppo lanciare il rebuild senza dover attendere un prossimo commit che scateni il rebuild del nostro container sotto il tab status se ci fossero dei messaggi di downtime del sistema vedremo comunque messaggi riguardanti lo stato del servizio Odoo SH vedremo appunto comparire informazioni da parte di Odoo sotto il tab settings abbiamo un po' di impostazioni interessanti come la possibilità di rinominare l'url con il quale accediamo al nostro servizio Odoo SH la possibilità di aggiungere dei collaboratori specificando il loro username GitHub per ogni utente abbiamo ovviamente la possibilità di impostare livello di eccesso admin o user abbiamo anche la possibilità di dare accesso al pubblico all'istanza Rambot ovviamente non agli ambienti di produzione ma ovviamente stiamo parlando di ambienti di testing e sviluppo il custom domains è impostabile ovviamente per singolo ambiente produzione o testing i sub modules ci vengono in aiuto nel momento in cui dobbiamo aggiungere dei repository riservati alternativi a quello che già è stato creato con la creazione del nostro ambiente Odoo SH avremo la necessità di impostare in questa casella di testo l'indirizzo SSH del repository riservato dopo l'inserimento del repository Odoo SH ci chiederà di generare una chiave che dovrà essere impostata su GitHub nel repository riservato nella sezione deploy keys oltre a questo abbiamo un po' di informazioni che riguardano la nostra subscription abbiamo qui possibilità di monitorare lo stato del file system quindi sapere quanto spazio disco stiamo occupando abbiamo anche la possibilità di aggiungere dello spazio disco lo stesso vale per i workers i workers sono diciamo l'equivalente dei processori dei core utilizzati della nostra istanza Odoo chi ha un po' di familiarità con gli aspetti più sistemistici di Odoo Odoo sa benissimo che è un worker è quel qualcosa che ci permette di esaudire tutte richieste parallele Odoo come vediamo qua ci consiglia un worker per ogni 25 utenti contemporanei collegati al nostro database idem abbiamo la possibilità di aggiungere degli ambienti di staging e poi abbiamo ovviamente la possibilità di inserire la nostra chiave di attivazione del contratto Odoo Enterprise tornando alla schermata principale di Odoo SH qui abbiamo sulla nostra dashboard un po' di informazioni che ci permettono di gestire il nostro progetto Odoo SH il nostro progetto Odoo Days 2020 in questo momento come vedete è in stato trial ci informa Odoo quanti giorni mancano qual è la versione di Odoo utilizzata qual è la location tramite questa iconcina con tre puntine abbiamo la possibilità di abbandonare il progetto se siamo dei collaboratori abbiamo anche la possibilità se siamo invece degli admin di eliminare il progetto oltre a quanto fornito dall'interfaccia utente di Odoo SH buona parte delle operazioni quotidiane potrebbero avvenire direttamente da GitHub o dal nostro ambiente di sviluppo tramite i comandi Git una delle operazioni che spesso l'utente Odoo con Odoo SH si trova a fare è l'aggiunta di repository di terze parti soprattutto possiamo immaginare l'aggiunta di repository OCA abbiamo ovviamente la possibilità di creare un file all'interno del nostro repository un file requirements.txt nel quale andare ad aggiungere tutti i requirements python aggiungendo requirements all'interno del file requirements.txt e committando questa modifica Odoo SH si accorgerà automaticamente della presenza del file requirements.txt e installerà automaticamente la libreria python se volessimo ad esempio aggiungere un repository OCA tramite submodules quello che possiamo fare è utilizzare ovviamente i comandi Git per comandare i submodules oppure tramite l'interfaccia di Odoo SH ritorniamo sul nostro ambiente ad esempio sull'ambiente di staging e utilizziamo questa parte dell'interfaccia di Odoo SH questa qua in alto dove troviamo clone, fork, merge e così via una delle funzionalità disponibili è appunto submodules cliccando su run on do SH abbiamo la possibilità di impostare i repository Git dal quale vogliamo andare a prelevare i moduli quindi andiamo a selezionare il branch relativo in questo caso 14.0 e clicchiamo su add submodules al termine dell'operazione ci troveremo il nostro container ricostruito con i submoduli inseriti se andiamo a vedere cosa è successo sul nostro GitHub ci accorgeremo che nell'ambiente di staging nel branch di staging e a questo punto è disponibile una nuova cartella OCA all'interno della nostra cartella OCA avremo appunto il riferimento al repository tramite l'utilizzo dei submodules Git Alcune altre informazioni interessanti per chi vuole utilizzare l'interfaccia di Odoo SH direttamente per lo sviluppo dei propri moduli Odoo in questo momento ho eseguito un commit sul branch dev e come vedete Odoo SH sta ricostruendo il container oltre a queste funzionalità possiamo anche gestire, pilotare altre tipiche situazioni Git come ad esempio il merge di due branch ad esempio volessi fare il merge del branch dev sul merge staging dovrei semplicemente trascinare il branch dev sul branch staging rilasciando Odoo ci chiederà se vogliamo fare il merge oppure procedere con rebase and merge al termine dell'operazione Odoo semplicemente ricostruirà il container di staging utilizzando a questo punto il branch staging aggiornato con il merge proveniente da dev con quest'ultima informazione possiamo dichiarare conclusa questa chiacchierata riguardante le funzionalità di Odoo SH spero che sebbene sommarie vi possano essere utili per valutare la bontà di questo progetto che esattamente come il progetto 2 è in continua evoluzione quindi attendiamo le prossime release per vedere quali novità ci aspetta Odoo SH grazie a tutti ancora per l'attenzione e buona continuazione bene, rieccoci qua ciao Davide, ciao Andrea ciao Andrea è sempre lo stesso Davide di ieri è sempre lui allora, talk interessantissimo uno degli strumenti diciamo recenti che ha sfornato Odoo SH io devo dire che sei stato come al solito diciamo abbastanza completo hai fatto tutto il giro sulla piattaforma per cui questo video immagino che tornerà decisamente utile a tutti coloro che vorranno cimentarsi con Odoo SH tra i vari commenti in chat c'è un certo Ciro Urselli che ci chiede se hai mai riscontrato un errore attribute error dr.http object as no attribute è un qualcosa che ti è mai capitato? sì, like web client rendering context quello capitava un po' di tempo fa adesso è un po' che non mi capita capita quando 2 quando ad esempio Odoo fa il rebuild di un container e magari quello precedente non è stato ancora stoppato non è capitato negli ultimi 12 mesi o giù di lì se mai capitasse quello che puoi fare prima spegnerlo tramite la shell di Odoo SH poi procedere al rebuild di quello nuovo però ripeto è tantissimo tempo che non mi capita perlomeno da quando Odoo non è più in fase beta ho visto altri commenti che riguardano la stabilità di Odoo SH esatto tu a tal proposito hai rilevato che dopo la fase beta è diventato decisamente utilizzabile sì 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 assolutamente poi ovviamente possiamo comparare ovviamente Odoo SH con altre soluzioni di hosting come Amazon piuttosto che DigitalOcean e simili ma è una comparazione impari il vantaggio di Odoo SH non è la soluzione di hosting stessa quanto gli strumenti che ci da comunque chiusa questa parentesi quindi posso testimoniare che ormai utilizzo Odoo SH per tutti i miei clienti tranne quelli che per motivi di bando stabilità connessione internet non possono utilizzare una soluzione cloud non ho mai riscontrato problemi di stabilità o gestisco anche istanze Odoo con parecchie decine di utenti contemporanei con decine di gigabyte di storage quindi anche situazioni abbastanza complicate complesse sì 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 assolutamente poi è chiaro come ogni cosa va valutata a caso per caso assolutamente rispienze così ridotte per cui una macchina un po' più piccola in qualsiasi hosting va più che bene mentre Odoo SH ovviamente ci dà degli strumenti per diciamo evolvere anche in situazioni che potenzialmente nel tempo dovranno potranno crescere sì assolutamente il vantaggio principale è dovuto al fatto che tutta l'attività sistemistica di messa in sicurezza degli ambienti di tuning delle performance e così via non è più carico nostro chiaro chiaro decisamente va bene io non vedo altre domande credo che insomma li hai stesi come al solito per cui diciamo sei stato decisamente completo e per questo adesso io ti saluto ti ringrazio nuovamente di essere stato qui con noi lo sei costantemente per cui diciamo una figura sempre presente quella di Davide ti saluto e a questo punto ti chiamo dalla regia Ivo per proiettare la promo grazie 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 grazie